Va bene gli investimenti, non va bene peggiorare le condizioni di salute e di lavoro delle persone e serve semmai rivedere il salario che oggi è uno dei problemi più grossi. All'Electrolux è il giorno delle assemblee dopo il coordinamento a porte chiuse che ha visto di fronte aziende e sindacati per l'illustrazione della proposta di potenziamento dello stabilimento di Susegana. Qui il gruppo intende trasferire parte dei volumi produttivi della fabbrica ungherese che prevede di chiudere entro dicembre con l'obiettivo di arrivare a produrre un milione di frigoriferi l'anno. L'idea di Electrolux è portare fino a un milione centomila i frigoriferi da produrre rispetto agli 860 mila attualmente programmati anche se quest'anno ne faremo meno e per fare questo prevede 110 milioni di investimenti. Per fare questo investimento chiede ai lavoratori di aumentare i ritmi di lavoro, modificare il modello di pause, prevedere un diverso utilizzo delle ferie. Abbiamo già fatto presente che finché non si capirà come funziona e quanto pesa il lavoro da fare con i nuovi investimenti già fatti e che ancora non sono stati implementati è inutile ritoccare accordi che ancora non sono applicati. Operai e impiegati hanno dato mandato ai sindacati di proseguire la trattativa con l'azienda mettendo però nero su bianco che il potenziamento dello stabilimento non deve costituire un peggiorativo per i lavoratori né dal punto di vista economico né della qualità della vita. Abbiamo fatto presente all'azienda che noi i sacrifici cosiddetti li stiamo già facendo anche perché i nostri salari sono fermi e l'inflazione è cresciuta in 15 mesi del 16%. I prezzi dei frigoriferi anche sono cresciuti probabilmente più o meno alla stessa cifra e ciò che è rimasto fermo sono i salari. Willi. Grazie.